Aspetta pure i contanti, aspetta! Capirete che io non cammino con una cifra simile a toga? Ma si capisce? Dove devo venire? Venitemi a trovare a casa, non viate! Ma quando mai? Ma non vi disturbate! Voi siete un uomo indaffarato, per il mondo del cielo! Datici un'oretta di tempo, andiamo a casa, prendiamo i soldi, veniamo qua, facciamo a che pezzi è costato! Ma questo è un'ora di tempo! Ma parola, ma come, ma come lo è? Ma che c'è? Cavaniere, guardate, quando può venire l'altro accurente del quadro, io ce lo do, eh! Ma no! Parola, non è serio, eh? Eh, non è servito il vostro intervento, purtroppo, mi scusi maestro, io credo che siano sufficienti 15 minuti! Ah, 15 minuti? Ah sì, perché guardi, ho il liquido pronto a casa! Ah, scusate, Cavaniere, il liquido è la stessa cosa del contante! Liquido, contante? Vi do, lo po' Hai visto? No, l'onore, 15 minuti! 15 minuti! E forse anche meno! Meno! 10 minuti, perché la macchina è velocissima e... 10, 10 minuti! Maestro, tra 5 minuti siamo di ritorno! Sì, ma dovete già, va, va! Oh, mamma! È un momento, la comesci bella, bella e buona cosa è stessa con me! Giugnani non è andata a che voglia! Ma come Maria donava l'aiuto? Mauro, urbano,� replace! Facelo, facelo, facelo! Un dia, che la mia ins Ар Ma che ti ha fatto? Un momento, un momento, un momento, un momento. Eh, ti è panciato qui? Lo vado che l'avessi andando a guardare tutto qua. Un momento. Ha fatto il tuo bambino? Ah, senti, ti faccio dormire, ha fatto il tuo bambino? Un momento. Un momento. Signor, mamma, è una tacciata un po'. Guadagnami, non voglio niente, non voglio niente. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Ma... Ma è da buceata. Faccio una cortezza, vi ha da buceata. Ma, senza... è papuccio. Eh, ma... E' sta aela, pure potte più. Ah che aela, eh? Aela, eh. Che aela, eh? Aela, eh. Aela, no... Aela, no. Aela, eh. Ah, aela, come una... Aela. Eh, pure potte più! No, no, non mi serve. Ti dà a me, signor. E ti dà una rosa, i tini, e i tondoi, e i tondoi. a bella sua ! no no! prendete la cammese e la parte va a fare questo e qui! mammo!! non so di chiudere! vai� venga! ttaccio bellissimo! non so dove? si quelli? ah non so come una signora! non so come sei bimbi va beh! questa bella misteriosa! ma qui ma c'è mancato ma 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 Vabbè, come va? Come va? Come va? Come va? Alla moglie ha detto come non puoi guardare la mia. Non puoi fare niente. Si ha visto le singolarie. Non mancherà. Come va? Non vogliamo parlare, ma se ne puoi anche parlare. Vabbè, si, come va? Ma ti dà, che va a fare. Vabbè, come va? Come va? Ah, qua, qua. Non faccio niente. In nome del Padre e del Figlio, dello Spirito Santo è così. Ave Maria, Madre di Zieto, l'offra a te tutte le durementi mie. Ma a casa non puoi fare niente. potrà essere accenso. Contento, apre e porto la vita, la roba, la roba mio Gesù. La roba tutta cassa niente di più. Oh, quando è piacere figlio di Dio. La mia cassa, allora chi cassa? Sì, non mi va triste, è tu figliusso. Cari in terra, non mi domusso. La maronna d'accompagna, Gesù Cristo di salute. O sperassone di scagno, non mi passa una caruzza. Sicutare, sicutare. Ho seguito via all'inferno, quando è vero, quando è eterno. Prego per noi, mamma di Gesù. Oh, facci lui accenire, è nato brutto. Oggi è nel loro santa Maria. Della sua morte, ecco, si è andamorata. Il nome della patrista è tu figliusso. Cari in terra, non mi domusso. Sto portando l'interno. A calama a fronte in terra. Oh, grandissimo fornuto. Uè, cassa c'è, non sei una serra, eh? Il nome della patrista è tu figliusso. Perché tu sorrida lui. Non l'hai trovato? Come l'ha detto santa Maria, tu stai qua? Sì, caro, sono di passaggio. Rimano, faccio il bagaglio e me ne vado, vieni. E perché rimano? Stasera stessa ceriamo tutte due. No, 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 no. Margheritina, faccio in masi condano le miele. Ah no, non mi ricordavo prima. Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Ma che voleva tu? Oh, cappuccino! Oh, cappuccino! Ma... Ma... Ma che? No Vicentino ti facesse schifo? Eh, ma fai l'impressione, un animale vuole nebbere. Ah, ah! No, ti piace lo Vicentino! Eh! No, ti piace lo Vicentino! No, ti piace lo Vicentino!